Mi occupo da 40 anni di relazioni, di relazioni nelle organizzazioni, nel mondo del lavoro. E la parola che mi è stata consegnata stasera è la parola viaggio, la parola cammino, la via. La via che io quotidianamente trasformo e che mi trasforma è la via che va dalle relazioni di potere al potere delle relazioni. E' la via che va dalla gestione delle risorse umane al governo umano delle risorse. E la differenza la fanno i volti delle persone, i volti interroganti delle persone che si fanno incontrare e che io scelgo di incontrare. La domanda che ogni giorno mi rivolgo e che voglio condividere con voi è non tanto qual è l'inizio e qual è la fine. Perché l'essere umano è uno degli animali che sa molto bene qual è la fine. Allora quello che rimane è proprio il come, quelli che io chiamo i passaggi, che è un altro modo per dire che la differenza ciascuno di noi la fa per se stesso e attraverso le persone che incontra. Ci sono tanti modi di mettersi in viaggio. Intanto, beh, non abbiamo scelto di camminare, di iniziare il cammino. Siamo venuti al mondo, il filosofo mi insegna, siamo stati gettati nel mondo. E l'idea della gettatità, che in italiano è brutto da sentirsi però, e dall'idea della fatica, dell'essere stati buttati nel mondo, non abbiamo scelto. Così come non scegliamo la nostra fine. Invecchiamo dal primo giorno in cui veniamo al mondo. E di mezzo c'è la via. E come mi racconta e mi conforta uno dei miei poeti, quelli che io considero maestri, ecco, è Maciado, e dice in uno dei suoi versi, la via si fa con l'andare. Quindi ci incamminiamo e decidiamo giorno per giorno magari di vivere come turisti, di incamminarci come turisti, oppure di incamminarci come viandanti. E poi magari diventiamo pellegrini. Ecco, queste trasformazioni, io lo segnalo come un cambiamento profondo, perché a volte andare avanti è una questione di andare indietro, in profondità, di sapere chi siamo e di sapere come abbiamo scelto di compiere il viaggio. In questo percorso di vita, quando ero giovane, io ho pensato davvero di vivere una vita da turista. La vita da turista è una vita allegra, una vita con poco bagaglio, una vita in cui evidentemente io posso anche essere molto stanca, una vita in cui posso mangiare male, dormire poco o tanto. Comunque il viaggio da turista è sempre un viaggio bellissimo. E poi ho scoperto che continuavo con un viaggio da viandante. E il viaggio da viandante è un viaggio organizzato. Un viaggio dove io scelgo. Un viaggio dove incontro delle persone e dico sì e dico no. Un viaggio che mi insegna il discernimento. Un viaggio che ha anche degli obiettivi. E poi ad un certo punto mi sono accorta che non ero più il soggetto del viaggio, ma ero diventata l'oggetto. Cioè era il viaggio che faceva me e il viaggio che trasformava me. E allora ho pensato, beh, adesso sono sulla via della trasformazione vera che fa a me la via del pellegrino. E il pellegrino quasi sempre cammina scalzo. Il pellegrino è affaticato. E il pellegrino cammina anche quando si arresta. Molte volte abbiamo l'impressione nella nostra vita di esserci fermati, di non riconoscere più l'intimità con le persone con le quali siamo. Talvolta abbiamo l'impressione che siamo addirittura tornati indietro. Come in un gioco dell'oca impazzito, no? In cui buttiamo i dadi e ad un certo punto ci ritroviamo indietro. Ecco, e io credo che il pellegrino riesce a farsi trasformare dal viaggio, dai volti che incontra, quando ha la coscienza, quando acquisisce l'idea che tornare indietro spesso significa darsi la forza per spingere e andare avanti. E un tornare indietro che significa andare in profondità. Molte volte l'ombra ci spaventa, l'ombra incontrata sotto forma di una mancata conoscenza, di una mancata relazione, di un dolore. In genere, leggo l'ombra alla mancanza. Diventare amici, amiche di quell'ombra, conoscerla, ecco, è un passo avanti. Allora, il lavoro è un lavoro che era stato identificato da molte mie maestre negli anni 70. Io li ho vissuti poco. Ho vissuto di più gli anni 90, in cui si parlava di autocoscienza. La filosofia ortodossa e poi la psicologia, perché lo devo riconoscere il tributo, la psicologia in qualche modo, ad un certo punto, ci ha voluti tutti quanti vincenti, ci ha voluti tutti quanti numero uno e tutti quanti a rimanere sul piedistallo del numero uno. e quindi abbiamo smesso con la competizione, abbiamo smesso di misurare la nostra crescita personale. È importante fermarci, è importante, indispensabile, io dico, in questo tempo, capire bene in che punto siamo, chi siamo e soprattutto con quali persone scegliamo di continuare. Quando io facevo riferimento prima al cambiamento, al viaggio che porta dalle relazioni di potere al potere delle relazioni, mi riferivo proprio alla grande forza che ciascuno di noi ha dentro, mi riferivo alla tensione che ciascuno di noi sente forte. Quello che io penso, io mi sono guadagnata da vivere in 40 anni lavorando nelle aziende con parole come autostima, motivazione. Poi ad un certo punto mi sono accorta che non bastava, che sì, andava bene quel viaggio fino ad un certo punto. In realtà credo che adesso la differenza possiamo farla noi, non soltanto fermandoci all'autostima, perché se aspettiamo di uscire di casa e di incontrare il volto degli altri con l'autostima a otto noi non usciamo più di casa. Allora io non lo so quanto io stimi me, la mia vita, le mie azioni, se le stimo poco, molto, tante volte un po' e un po', non so, ma mi avvio, mi avvio verso la relazione e questa è l'energia della relazione quando smettiamo di misurare o di misurare per esempio quello che in americano si chiama l'empowerment anche qui mi sono guadagnata un sacco di soldi così con i corsi che meccanicamente in qualche modo ci dicevano dai vai questo è il tuo viaggio sarai vincente sei bravo sei bello sei intelligente quasi sempre lo dicevano i maschi perché è una mentalità virile è una mentalità virile quella della forza quella della presenza del presenzialismo a tutti i costi in tutti i luoghi il vero viaggio ad un certo punto inizia proprio quando prendiamo coscienza delle ombre e le nostre ombre ci fanno camminare con i piedi per terra allora io poi ho scoperto anzi lo vado scoprendo ed è quella la proposta che faccio a ciascuno di noi stasera la proposta di chiederci se non valga la pena di prenderci tutte e tre il viaggio da turista il viaggio da viandante e il viaggio da pellegrina e io credo che valga la pena di essere tutti e tre di essere turisti turiste di essere viandanti e di essere pellegrine pellegrini e vale la pena di giocarsela perché uno dei verbi che io amo e di più è il verbo francese jouet che significa tante cose significa giocarsi una partita ma significa anche suonare e credo che la nostra vita sia una vita e può diventare una vita musicale ecco quello che io chiedo a ciascuno di noi partendo da me è in che modo stiamo viaggiando è un lavoro proprio di autocoscienza e ritorna questa parola degli anni 70 antica ma non vecchia autocoscienza significa mi chiedo ma non me lo chiedo come un esercizio narcisistico lo chiedo guardando i volti degli altri che fanno parte della compagnia dalle nostre parti in Puglia molti anni fa si usavano lo dico in dialetto ma il dialetto credo che sia un po' in comune in tutta la Puglia anche se io non sono barlettana la compagnia la PED erano dei viandanti turisti viaggiatori pellegrini che bussavano di mattina presto all'alba alle porte le une delle altre gli uni degli altri e si incamminavano si incamminavano assieme ecco questa idea che voglio condividere con voi è l'idea di bussare alle porte dell'altro alle porte dell'altra e incominciare un cammino assieme perché oggi quello che manca non è vincere da soli quello che manca e non è neanche la community io l'inglese lo so male è poco ma è proprio il senso della comunità non siamo soli all'interno del nostro cammino ma per accorgerci dell'altro io ho bisogno di accorgermi di me per vedere l'altro io ho bisogno di aver visto me io mi vedo e quindi ti posso vedere io ti vedo se mi sono vista ecco io credo che possiamo incamminarci attraverso questa vita e incrociare altre persone che stanno facendo lo stesso cammino perché il viaggio è costitutivo dell'essere umano l'inizio e la fine non ci appartengono nel senso che sono già scritte quando io dico è costitutivo dico che l'essere umano ha un inizio e ha una fine certa nasce e muore ecco il processo la via che Machado dice si fa con l'andare tocca a noi e tocca attraverso un lavoro di ombra un lavoro di confidenza con quella che io chiamo poi la noità che è una parola che non esiste sul dizionario della lingua italiana noità è il senso della comunità è di più che noi è davvero tanto un piacere esserci incontrati e mi piace così tanto che ciascuno di noi esista sulla faccia della terra che da lì può capitare la magia di realizzare qualcosa assieme è l'idea dell'utopia noi siamo abituati e dobbiamo destrutturare diventare grandi e togliere diventare grande per me significa togliere i pezzi ma è così un po' per tutti e poi c'è l'idea della costruzione ma la costruzione la possiamo contemplare la possiamo agire soltanto nella noità e la noità è il sentimento del camminare assieme ed è anche il sentimento di un'azione comune di una cittadinanza virale io credo che si possa fare grazie perché adesso la parola passa a noi a noi